Traffico internazionale di stupefacenti. Con questa accusa, gli agenti della Polmare di Brindisi hanno arrestato due albanesi, entrambi incensurati, sorpresi con 25 kg di marijuana. La droga, suddivisa ai 24 panetti, era stata nascosta in un doppio fondo ricavato nella Mercedes, su cui due ragazzi viaggiavano. Enel Aliai e Arthur Xanai, 20 e 34 anni, sono stati bloccati nel porto dopo essere sbarcati dalla motonave Catania salpata da Egumenizza. A tradirle è stato il loro nervosismo. Durante un controllo di routine da parte della polizia di frontiera, avrebbero cominciato ad agitarsi un po' troppo. Tanto è bastato perché gli agenti si insospettissero e andassero a fondo. E i loro sospetti hanno quindi trovato riscontro quando, nel vano ricavato nel fondo dell'abitacolo, hanno recuperato la marijuana, ben confezionata e sigillata in panetti da quasi un chilo ciascuno. Una volta rivenduta al dettaglio, la droga avrebbe potuto fruttare fino a 350 mila euro. Per i due albanesi l'accusa è traffico internazionale di stupefacenti. Entrambi si trovano in carcere a disposizione del PM di turno Manuela Pellerino e lentagini proseguono per verificare la provenienza della marijuana.